La chiesa Madonna dei Fiumi è una chiesa bizantina assorta su un antico insediamento di monaci italo-greci. Il luogo di culto bizantino era interamente scavato nella roccia e nel 1611 sui suoi ruderi venne edificata una nuova struttura fortemente voluta dall'arciprete Don Pompeo de Benedictis. Secondo le testimonianze storiche, la nuova chiesetta dedicata alla Madonna dei Fiumi venne costruita per commemorare la memorabile vittoria dei Salentini contro gli invasori turchi, in una battaglia del 1547 che si consumò proprio in quei luoghi. Nel 1711 venne sostanzialmente ristrutturata e allargata e nel contempo venne realizzata una splendida volta emisferica. Venne arricchita con telle di notevoli dimensioni e venne completata l'opera di affresco che dona ancora oggi un invidiabile fascino all'intera tornavata.